Ancora una volta una pandemia ci ha ricordato che noi non bastiamo a noi stessi, abbiamo bisogno gli uni degli altri, oggi abbiamo bisogno ancora più che mai dei nostri medici, abbiamo bisogno dei nostri infermieri, abbiamo bisogno di tanti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Carissimi grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.